E' il momento di parlare di uno dei glitch più conosciuti che devo portare perché a quanto pare non è così conosciuto Molte persone mi hanno chiesto, mentre lo dovevo per scontato nel video su come far soldi e durante le live mi chiedevano Che cos'è Bogdan? Chi è sto Bogdan? Ho detto, signori, è il momento di fare un video Quindi parliamo del caso Bogdan, come fare un milioncino in 10-15 minuti Vi servirà un amico e a voi teoricamente nient'altro Entriamo subito nel dettaglio Dunque, per poter fare Bogdan ci sono due opzioni Potete dare il Bogdan a qualcuno e ricevere il Bogdan La persona che dà il Bogdan sarà la persona che quitterà e che non prenderà i soldi E che avrà bisogno della base operativa La persona che riceve il Bogdan non avrà bisogno di niente Basterà semplicemente fare quella missione, completarla e ottenere il milione Molto molto semplice Allora, facciamo tutto il discorso su come ottenere la missione E poi vediamo le due tipologie Allora, ci servirà una base operativa Do per scontato che non si sappia cosa sia Quindi parto da capo, ovviamente non è per chi già lo conosce Prendiamo la base operativa da Mates Bank Foreclosure La prendiamo a Paleto Bay Che è quella più economica Facciamo le missioni, dobbiamo fare tutta la prima missione Quindi sono, se non mi sbaglio, tre preparazioni Più tre missioni Ok? Poi facciamo l'atto uno Ok? La missione dell'atto uno E siamo a posto Arriveremo all'atto due Che è Bogdan L'atto tre sarà invece l'Apocalisse L'atto due si compone di Uno, due, tre, quattro, cinque preparazioni Quattro missioni di preparazione E poi infine il caso Bogdan Allora, adesso che l'abbiamo sbloccato Facciamo finta che lo vogliamo dare a qualcuno Molto semplice Attiveremo la missione Inviteremo una persona Possiamo anche riempire la sessione Però questo andrà a portare meno soldi A tutte le persone che partecipano Noi che ostiamo Che quindi vogliamo dare soldi a qualcuno Ci terremo il 15% Non possiamo sfortunatamente prenderci di meno E daremo a loro il restante 85% Mi raccomando Metter la missione in difficile Vedrete qua che quando l'ho registrata io E la stavo ricevendo non era in difficile Quindi ho fatto 800.000 dollari Anziché un milione Intanto non so se avete sentito l'audio Di qualcuno che si è iscritto al canale E dicevo Facciamo partire la missione Siamo in due Noi che ostiamo In verità si può fare come si vuole Tendenzialmente Vuole così Noi che ostiamo facciamo la squadra su Bac Quindi andremo sotto nel sottomarino L'altro player che riceverà i soldi Farà il supporto aereo Dunque Andiamo entrambi Dalla base operativa Fino alla zona di Paleto Bay Dove prenderemo Il nome della macchina che va sott'acqua La Stromberg che dovrebbe essere Quella che va sott'acqua E cominciamo ad andare al sottomarino Il nostro amico invece Andrà con Prenderà l'Avenger E lo porterà direttamente sulla costa Vicino dove spawnano Gli Shisha Gli Sea Shark Oppure a volte ci sono i motoscafi Eccetera eccetera Si può anche andare lì in macchina E poi tornare a fine missione all'Avenger E far partire Non è un problema Ci sono vari modi L'importante è completarla Ok Quindi ci facciamo tutto lo sbatti sotto Troviamo Bogdan Uccidiamo le persone Bla 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 Ok Tutto molto divertente Risaliamo Il nostro compagno Ci attenderà Molto semplice Ci prenderà su con lo Sea Shark Andiamo all'Avenger Saliamo Uno dei due guida L'altro va dietro nella stiva Spara Distrugge gli elicotteri Andiamo verso l'Hangar Quindi all'aeroporto di Los Santos E cosa facciamo? Molto semplice Quando abbiamo parcheggiato Non appena c'è schermata nera E parte il filmato Teniamo premuto il tasto PS Chiudi applicazione Molto semplice Quando riaprirete Vi ritroverete l'Ester Che vi rimanda ancora La richiesta al caso Bogdan Importante è non finire mai questa missione Altrimenti si passerà al lato 3 E non potremo più dare Bogdan a nessuno Per noi invece che la riceviamo Che vogliamo ricevere Molto semplice Tendenzialmente saremo il supporterio Come già dicevo Prendiamo l'Avenger Lo portiamo Lo portiamo sulla costa Prendiamo il Sea Shark Aspettiamo il nostro amico Toglietevi il cuffio Quello che è Perché tanto l'Ester o Bogdan Continuano a parlare È uno sbatti Quando il nostro amico esce Ci facciamo trovare con lo Sea Shark Lo portiamo sulla costa Lui ci sarà l'Avenger O la macchina Prendiamo il volo Mentre il nostro compagno Spara ovviamente gli elicotteri Arriviamo a Angar Atterriamo Ci sorbiamo Tutta la fine Della missione Ci portiamo a casa 1.800.000 Se l'ha messo su normale Ok? Come potete vedere Dalle immagini Quindi 10-15 minuti Di missione Milioncini Facili facili Il milioncino Facile facile E basta Piccolo Piccola nota Mi raccomando Non date troppi Bogdan in giro Nella stessa giornata In quanto verrete etichettati Come antisportivi Credo Sulla decina O 15 anni di volte Che abbandonate Antisportivi Tanti saluti E bon voyage Questo glitch Funziona ancora Qualcuno diceva Che potrebbe essere stato Pacciato Col dirsi del casino Non è assolutamente vero Funziona ancora Infatti l'ho registrato In questi giorni Dopo l'uscita del DLC E niente Questo è quanto Potete scrivere sotto Nei commenti Se cercate Bogdan Su Playstation Xbox O quello che è Oppure venite nel mio gruppo Telegram Dove c'è tanta gente Che se lo scambia E niente Quindi signori Spero essere stato abbastanza chiaro Per le persone che non lo conoscevano Ecco qua il caso Bogdan Se volete glitchare È un glitch innocuo Non è niente di che La missione la stiamo facendo Semplicemente il nostro compagno Quitta Non è niente di strato sferico Tra tutti i glitch Questo è quello che mi pesa di meno fare Di tanto in tanto Un milioncino Così Non è Non guasta mai Ragazzi Io vi auguro una buona giornata E ci vediamo al prossimo video Alla prossima live Da Renno è veramente tutto Alla prossima 3 2 1 Aloha Alla prossima Alla prossima